ciao a tutti da out of beat e da toni sauffa oggi andiamo a recensire delle skins delle pellicole da applicare sui nostri smartphone pellicole compatibili con tutti gli smartphone ovviamente dovrei dovrete prendere il modello specifico di un'azienda inglese da cui mi rifornisco ormai da tanto tempo e che abbiamo deciso di insieme di recensire sponsorizzare perché la qualità di queste pellicole è veramente elevata allora questo è il packaging quindi è un'azienda inglese trovate il link sotto nella descrizione nella descrizione del video questo è il packaging all'interno andiamo a vedere cosa c'è ci sono le skins e questa è extreme skins questo è il marchio ok molto molto fatte bene delle dell'alcol comunque che serve per applicare la pellicola al telefono e andiamo a vedere subito le pellicole così che abbiamo subito il materiale imballate molto in modo molto preciso quindi non non corriamo il rischio extreme skins non corriamo il rischio di avere dei problemi allora praticamente sono delle pellicole di vari effetti io ne ho prese diverse questo è il carbonio bianco color legno da applicare al nostro lgg3 poi questo è diciamo effetto acciaio satinato e ho preso un'altra effetto pelle ok queste sono le quattro pellicole io ne applicherò al nostro telefono soltanto una allora memorizzate questo effetto questo è l'effetto del telefono poi dopo lo andiamo a vedere con la pellicola montata adesso vi lascio al video di installazione che è proprio della extreme skins proprio della extreme skins e quindi niente dopo questo video vedremo l'effetto sul nostro telefonino delle pellicole ok ci vediamo dopo vi lascio ok ragazzi siamo ritornati dopo il video di extreme skins questo è il risultato vedete il nostro lg ve lo ricordate prima c'è qualche secondo fa ci ho messo 10 minuti a applicarla è veramente veramente fatta bene veramente veramente fatta bene lo ha applicato la parte superiore e la parte inferiore sulla pellicola quindi potete tranquillamente applicarla sulla pellicola è veramente spettacolare fatto benissimo vedete l'effetto legno vedete l'effetto legno veramente veramente bello vedete stupenda stupenda e niente spero che vi sia piaciuto ripeto è compatibile le pellicole di extreme skins sono compatibili con tantissimi modelli quindi acquistateli il venditore assolutamente affidabile ed è stupendo 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 thank you mark thank you extreme skins a tutti e niente ragazzi è veramente stupendo vedete l'effetto dell'effetto bellissimo bellissimo vi ricordo questo poi ci sono le altre skin ma ho voluto mettere la bianca perché almeno così come posso dire l'effetto è molto più forte da un cellulare scuro da uno smartphone scuro a uno smartphone comunque chiaro veramente veramente bello e niente spero di potervi recensire qualche nuovo gadget qualche nuovo accessorio quanto prima questo è veramente bello ve lo consiglio perché avete la possibilità di cambiare smartphone in modo molto molto preciso inoltre poi chiudo è possibile anche mettere le le cover adesso mi è venuto in mente tardi quindi mi scuserete se faccio tutto però ad esempio se applicate una cover adesso se applicate una cover l'ho presa come vedete potete anche mettere una una cover non ci sono non ci sono problemi quindi adesso la mia è scura però potete mettere una cover una cover bianca vi ringrazio per avermi seguito e grazie a tutti alla prossima grazie a tutti grazie a tutti